Paola Allegri, Presidente Esperti Edificio Salubre e Presidente dell'Associazione Nazionale Donne Geometra. Questa nuova competenza all'interno dell'Associazione Nazionale dei Geometri Italiani che avete definito esperti in edificio salubre, puoi spiegarmi il percorso che avete fatto molto velocemente e quali sono i risultati acquisiti fino ad ora? L'esperto dell'edificio salubre nasce per partecipare alla ripresa del mercato nell'edilizia, c'era un accordo delle regioni con lo Stato dove era stato molto evidenziato che le persone vivendo all'interno degli ambienti confinati si ammalano con patologie gravissime che possono arrivare anche al cancro del polmone. Purtroppo in Italia la normativa che era stata recepita era soltanto quella sismica e quella sulla sicurezza, lasciando indietro appunto la salubrità. Da un approfondimento insieme all'Università di Trieste, la Facoltà di Medicina e Chirurgia abbiamo approfondito il tema e ci si è resi conto che ogni anno spendiamo 1.215 miliardi delle vecchie lire in salute e tutte queste malattie proprio si contraggono all'interno degli edifici, sia essi pubblici sia essi privati. Da qui l'insistenza di preparare, di predisporre un percorso formativo per i geometri italiani ma naturalmente aperto a tutte le libere professioni ma abbiamo capito che c'è anche la necessità di andare a formare le maestranze e quindi con un rapporto, un dialogo con l'impresa, con l'industria, i produttori di materiali e i professionisti stessi. Quanti sono gli esperti di edificio salubre formati in questo primo anno di attività? Quest'anno ne abbiamo formati 200, i primi 100 già sono attivi e gli altri 100 faranno gli esami a fine di questo mese. Grazie a tutti.